Oltre ad essere il presidente dell'Ace e quindi il presidente di tutta questa organizzazione della manifestazione, è anche un pilota e di che tinta il pilota? Perché Sandro Zucchi avrà l'onere di difendere il suo titolo italiano quest'anno? Speriamo di ripetere quello dell'anno scorso e chiaramente la Lago Montefescone è uno snodo importante perché io poi ho avuto una rottura alla scarperia a gioco un mese fa e quindi non sono partito, domenica mi sono rifatto al passo dello Spino, se arrivo al Montefescone già ho messo un piede sul titolo.